Musica Chiarati occhi una gara assolutamente straordinaria tutta l'attacco una giornata memorabile Sì oggi è andata veramente bene finalmente ci tenevo a far bene perché le ultime tre gare non sono andate tante bene perché stavo male Ma oggi la forma è tornata e ho fatto vedere quanto valgo speriamo di riuscire a prendere la maglia nell'ultima tappa Roma E oggi purtroppo non l'ho presa però siamo ancora in lotta Com'era il percorso? Era un percorso veramente duro a parte duro nel senso che come percorso ma anche il terreno perché è piovuto tutta la notte quindi era veramente pesante Però è lì dove ho fatto la differenza e sono contenta Grazie 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 Grazie